come comincia questa storia beh da un sogno il sogno di farcela insieme siamo una band e sogniamo di farci tutti insieme saveria la ragazza di quel tristone di silvano voce e chitarra dai ragazzi su il successo non sta mica aspettare noi eh io sono alfonso e sono la batteria e quello che brandisce il basso come un uomo delle caverne è Pierdio il nostro bassista sirvano è proprio un coglione la sua passione per la musica è assoluta anzi no di passione ne ha un'altra farsi le pippe davanti al film di tinto brass per questo e per altri 186 ottimi motivi saveria lo ha lasciato e lui ancora non si è ripreso manca il nostro tastierista ma brandon è lui col cazzo che ci sono un'altra volta con voi fate cacare avete solo un pezzo di scaletta che tra l'altro è una cover di merda o cazzo beh in effetti non è che a tutti i torti e pensare che ho rinunciato alla mia carriera d'astronauta per seguire questi imbecilli non è possibile prima mi mollo la saveria poi la sifilide e adesso questo e ora che cazzo facciamo che facciamo chiamiamo il pub non so può finire così pronto siamo della band di stasera no non possiamo più suonare il tastierista ha la diarrea spruzzo se volete vi do una mano io con le pompe e con le tastiere ci sa fare con le tastiere dai dico davvero pensate ad arrivare va bene va bene arriviamo arriviamo che ti ho detto ora ti spiego vai e quindi ci dà una mano lei si ma se suona di merda beh più merdosa che te non può essere magari è buona me la trombo pure ragazzi un autostoppista ehi sei per il passaggio? si perché se hai un sogno li insegui e basta non pensi mai che è difficile o impossibile nessuno può fermarci ferma la macchina ma non siamo ancora arrivati in città ho detto ferma la macchina mettetevi giù e abbassatevi i pantaloni ma adesso che cosa ci farai? beh ovvio adesso vi sodomizzo dai ragazzi dimenticate quello che ci è successo ma che cazzo stai ma che cazzo stai ma sei un poione stronzo un paesi che non ho mai ma che cazzo stai